Per acquistare crediti visitate FIFA Coinstank, un sito economico veloce e sicuro al 100%. Inoltre potete utilizzare il mio codice coupon che trovate in descrizione per avere il 5% di sconto. Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmix e sono qui a portarvi un nuovo tipo di video, una nuova diciamo serie tra virgolette, in cui parleremo dei giocatori che purtroppo non ci sono, non sono presenti su FIFA Ultimate Team ma che io personalmente avrei voluto trovare in questa versione del gioco di quest'anno. Quindi la cosa importante è ovviamente come al solito farmi sapere nei commenti il vostro gradimento rispetto a questa nuova serie e farmi sapere oltre ai giocatori ovviamente che tratterò oggi, di cui parlerò 3 giocatori a episodio, altri giocatori che vorreste che io tratti in futuro. E ovviamente vi invito subito a lasciare un bel like così se riusciamo ad arrivare a 400 like partirà subito un nuovo video, un nuovo episodio. Comunque partiamo subito dai giocatori di oggi che sono 3 come ho detto prima, il primo giocatore è un giocatore della serie A e stiamo parlando di Ivan Strinic, neo acquisto comunque del Napoli, che purtroppo penso che giocasse nel Dnipro, quindi campionato ucraino che non è presente nel gioco o per meglio dire in parte presente, c'è solamente lo Shakhtar Donetsk nel gioco, quindi il Dnipro non c'è e quindi non è stato possibile inserire nel gioco Strinic, che comunque a quanto abbiamo visto dalle tre partite che penso abbia fatto con il Napoli sino ad ora è comunque stato un giocatore molto buono e quindi un buon acquisto per il Napoli. Le statistiche dovrebbero essere giuste nel senso che io ho visto su SoFifa, che è un sito abbastanza affidabile in cui troviamo tutte le statistiche di tutti i giocatori o quasi tutti e più o meno ho fatto la media con il calcolatore delle statistiche, poi su Ultimate Team venivano fuori queste statistiche e comunque mi pare che siano delle ottime statistiche per un terzino sinistro con velocità, un discreto dribbling, buona difesa, un buon fisico peccato che ha solamente il 62 di passaggio che non è moltissimo ma comunque se ci fosse stato su Ultimate Team sarebbe stato sicuramente una buona e una valida alternativa ai terzini sinistri che abbiamo in game, cioè nel gioco ha 4 stelle piede debole e 2 stelle abilità comunque sia, io se li devo dare un voto, secondo me è un buon giocatore, quindi gli do un bel 7 andiamo con il secondo giocatore di oggi stiamo parlando di un giocatore sempre della serie A, anche qui mettiamo tra virgolette stiamo parlando di Aki Mastur del Milan o Milan Primavera io sinceramente, io ho dato queste statistiche un po' a random perché non l'ho visto giocare tantissimo il giocatore, quindi non so quindi infatti fatemi sapere voi nei commenti come lo fareste voi Mastur perché davvero sono stato un po' in difficoltà a crearlo perché non sapevo quanto potesse essere veloce, quanto potesse essere forte nel tiro e nel passaggio visto che si è visto veramente poco questo giocatore perché è molto giovane penso che dall'anno prossimo ci sarà su Ultimate Team perché forse avrà l'età giusta quindi 17 anni circa per far parte di FIFA e quindi spero ci sarà ovviamente gli ho messo le 5 stelle abilità che sono la sua caratteristica, il dribbling la sua caratteristica migliore diciamo per lui e comunque una buona velocità, comunque buoni valori per essere un giocatore bronzo sicuramente molto buoni che ovviamente se saranno così o circa l'anno prossimo è da provare assolutamente tre stelle piede debole, ruolo AT è un giocatore che siamo ovviamente tutti penso curiosissimi poi di vedere tra qualche anno in Serie A come si comporterà perché è una futura promessa, una futura star sperando che non si monti la testa mentre andiamo con l'ultimo giocatore di oggi e stiamo parlando di un giocatore che era presente anni fa in FIFA cioè Marcio Asevedo molti di voi ovviamente se lo ricorderanno giocava in Liga Brasiliana nel campionato brasiliano in FIFA 12 e in FIFA 13 io lo utilizzavo tantissimo in FIFA 12 quando avevo la squadra skiller anche se non si è più skillare però era divertente da utilizzare questa è la carta che io avrei predetto con una velocità inferiore rispetto agli altri anni cioè FIFA 12 e FIFA 13 perché comunque io l'ho visto giocare poco ma un po' l'ho visto giocare nello Shakhtar nella Champions League e non mi sembrava super veloce comunque sia una buona velocità ma soprattutto 5 stelle abilità questo giocatore era famoso sui FIFA 12 soprattutto per le sue stelle abilità e sul fatto che era comunque un giocatore straforte tra l'altro io mi ricordo che una volta facciamo un piccolo cenno storico in FIFA 12 appunto avevo appena iniziato a giocare incontro sto tizio skiller che aveva appunto la squadra con tutti i giocatori skiller e c'aveva Marcia Sevedo che è un terzino sinistro come prima punta e mi aveva fatto tipo 4 gol solo Marcia Sevedo perché era talmente forte che era veramente un animale anche da attaccante poteva fare 2000 gol comunque tutto sommato sarebbe una buona carta vederla così e soprattutto quelle 5 stelle abilità sono davvero molto sexy per un terzino sinistro poi non si è mai visto e quindi davvero paurosi fatemi ragazzi sapere nei commenti come ho detto prima quali giocatori vorreste che io tratti successivamente stavo pensando magari a tipo Cono Pianca che è un giocatore abbastanza interessante ma comunque fatemi sapere quelli che voi preferite niente lasciate un bel like 400 mi piace uscirà un nuovo video vi invito a iscrivervi al mio canale pagina facebook twitter instagram tutti i link come sempre li trovate in descrizione noi ci vediamo al prossimo video bella raga